oh lei è invertebrata come potete vedere lei è salami e starà con me fino al 25 quindi quando uscirà questo video lei non ci sarà già più ma per oggi starà con noi spero in una posizione più decente ma ti pare il caso vabbè sarà sulle mie gambe anche se non la potrete vedere no non toccare non toccare ciao amici come state mi siete mancati tantissimo a questo punto sono già due giorni che non pubblico un video sono nella mia pausa non pausa quindi già due volte è già passato un lunedì e un venerdì quindi non pubblicare i video vi giuro mi fa troppo strano però come vi ho detto ho continuato a lavorare ho continuato a preparare video per voi e oggi torniamo col botto perché questo è un caso che mi avete chiesto veramente in tantissimi e posso dirvi questo è il video che mi ha particolarmente scioccata è il video che mi ha scioccata più di tutti è una storia che conoscevo però a grandi linee non mi ricordavo e non sapevo il 90 per cento delle cose non lo so sono rimasta bocca aperta per tutto il tempo che ho fatto le mie ricerche sono senza parole ma scusate non ho fatto il mio intro bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi sono elisa true crime come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qui con voi vi racconto una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata se conoscete questa storia lo saprete già e avrà mandato i pazzi anche voi ma se non ne avete mai sentito parlare o se come me la conoscete a grandi linee preparatevi perché sembra il copione di un film ma purtroppo non lo è voglio precisare che tutte le informazioni che appunto troverete in questo video sono state prese da varie fonti ma il 99 per cento praticamente sono state prese da un documentario in cui c'è proprio il fratello di Emanuela Orlandi che racconta la sua storia insieme anche all'avvocato della famiglia Orlandi e diverse persone coinvolte nel caso vi metterò il link di questo documentario nei commenti perché ci sono delle parti delle registrazioni lo vedremo nel video che non posso inserire perché come sapete youtube è sensibile quindi vi metterò il link nei commenti ok l'intro direi che è stato abbastanza chilometrico anche oggi possiamo cominciare Emanuela Orlandi nasce a Roma il 14 gennaio del 1968 e quando si svolge questa vicenda ha 15 anni e vive nella città del Vaticano insieme ai suoi genitori e a quattro fratelli lei era la penultima probabilmente lo sapete già ma io ve lo dico lo stesso perché magari c'è qualcuno di voi che non è a conoscenza so che non tutti quelli che mi seguono sono italiani il Vaticano è una città stato ed è il cuore della chiesa cattolica romana è uno stato a sé e infatti si tratta dello stato più piccolo al mondo ci vivono al massimo un migliaio di persone e ottenere la cittadinanza per poter vivere lì è estremamente difficile perché non tutti possono vivere lì chiaramente ci vive il papa i cardinali altre figure relativi alla chiesa ma anche persone che ci vivono per motivi d'ufficio impiego la famiglia di Emanuela ci viveva proprio perché il nonno di Emanuela lavorava al Vaticano di conseguenza anche suo padre aveva iniziato a lavorare lì molti anni prima aveva iniziato come elettricista e poi quando il Emanuela era andato in pensione il padre aveva preso il suo posto in prefettura Emanuela e suo fratello Pietro Orlandi hanno diversi anni di differenza ma nonostante questo sono molto uniti lei aveva una passione e un talento innato per la musica e suonava diversi strumenti musicali tra cui il flauto e il pianoforte e si era messa in testa di voler insegnare a tutti i costi a suo fratello a suonare il notturno di Chopin e lui aveva accettato ed era diventata un po' una sfida per lui imparare quindi questo anche per farvi capire il loro rapporto passavano davvero molto tempo insieme ma purtroppo Emanuela non riuscirà a portare a termine questo suo compito questo suo desiderio suo fratello non imparerà mai a suonare il notturno di Chopin perché Emanuela un giorno scomparirà misteriosamente siamo nel giugno del 1983 Emanuela aveva appena terminato il secondo anno di liceo scientifico presso il convinto nazionale Vittorio Emanuele II ed era stata rinviata a settembre in latino e francese come già detto Emanuela studiava anche musica alla scuola di piazza santa pollinare a Roma proprio vicino al senato della repubblica e quel giorno il 22 giugno del 1983 aveva lezione alle 16 e prima di uscire chiede a suo fratello Pietro di darle un passaggio perché quel giorno a Roma si moriva di caldo e lei non aveva nessuna voglia di prendere l'autobus ma il fratello le risponde che non poteva perché aveva altri piani al che Emanuela si arrabbia si altera e hanno una direi normalissima discussione tra fratello e sorella in cui lei urla che non le faceva mai favori che era disponibile sempre per tutti ma invece per lei no cosa ovviamente non vera come già detto i due erano molto uniti ma sapete com'è no tra fratello e sorella ci sono tutte queste discussioni un po senza senso fatto sta che Emanuela esce di casa sbattendo la porta e spostandosi i capelli dal viso come era solita fare ma da quel paese suo fratello e purtroppo però quella è l'ultima volta che i due si vedono e si parlano Emanuela quindi va a lezione di musica alle 16 e rimane lì fino alle 18 e 45 ovvero dieci minuti prima che la lezione effettivamente finisse Emanuela quindi esce un po prima va ad una cabina telefonica vicino alla scuola e telefona a sua sorella maggiore Federica dicendole che l'autobus non passava e che quindi sarebbe arrivata un po in ritardo ma le racconta anche un'altra cosa le dice di essere stata avvicinata da un uomo per strada che le aveva offerto un lavoro descrive quest'uomo come uno di bell'aspetto vestito in un modo molto elegante sembrava una persona per bene per questo Emanuela gli aveva dato massima fiducia e aveva ascoltato quello che aveva da offrirle quest'uomo le chiede di distribuire dei volantini per l'avon la famosa ditta di cosmetici ad una sfilata di moda delle sorelle fontana e il compenso per questo lavoretto sarebbe stato di 375 mila lire che comunque sono un sacco di soldi per fare volantinaggio la sorella infatti le risponde Emanuela stai attenta perché mi sembra una proposta un po strana le consiglia infatti di tornare a casa di aspettare che tornassero mamma e papà e di parlarne con loro di questa storia ma Emanuela risponde che non aveva tempo perché quell'uomo le aveva detto che quello stesso pomeriggio l'avrebbe aspettata all'uscita dalla sua lezione di musica alle 7 proprio per avere una risposta era sicura anche la sorella dicendole che l'uomo le aveva detto che sarebbe anche stata libera di portarsi dietro un genitore a questa sfilata quindi ora sappiamo perché Emanuela era uscita 10 minuti prima da lezione stava aspettando proprio quell'uomo sappiamo anche che dopo quella telefonata Emanuela si reca alla fermata dell'autobus insieme a due suoi compagni di scuola e anche a loro parla di questa proposta lavorativa e anche loro sono un po stranite da questa proposta da questo compenso così alto e la mettono in guardia Emanuela risponde anche a loro di stare tranquille che sarebbe stata attenta dopodiché queste due ragazze prendono l'autobus che passa di lì ma Emanuela decide di non salire insieme a loro dicendo che quell'autobus era troppo pieno di gente e che avrebbe aspettato quello dopo si pensa che la verità era che Emanuela non era voluta salire sull'autobus proprio perché voleva aspettare quell'uomo e che forse sia addirittura andata a cercarlo nel punto in cui l'aveva incontrato la prima volta questa però è solo una supposizione non si sa con certezza perché da quella volta di Emanuela si sono perse tutte le tracce la famiglia di Emanuela chiaramente non vedendola rincasare si preoccupa subito non era da lei non tornare a casa per così tanto tempo oltretutto senza avvertire doveva esserle successo qualcosa pensano subito magari ad un incidente danno quindi immediatamente l'allarme la madre e una delle sorelle ripercorrono la strada fino alla scuola di musica a piedi cercandola mentre invece Pietro suo fratello fa la stessa cosa però in moto nel frattempo fanno anche delle telefonate a tutti quelli che conoscevano per sapere se l'avessero vista se sapessero qualcosa erano ufficialmente entrati nel panico e non sapevano bene cosa fare ma a tutti viene subito in mente quella strana proposta che quest'uomo le aveva fatto solo poche ore prima guarda caso era stata avvicinata da un uomo molto più grande di lei che le aveva offerto un sacco di soldi e poi dopo poche ore era misteriosamente scomparsa difficile pensare che queste due cose non fossero collegate no il fratello Pietro passa tutta la notte a cercarla nei vari parchi l'intorno e pensa subito al peggio pensa che quell'uomo potesse essere un maniaco o addirittura qualcuno che l'avesse rapita per venderla alla tratta delle bianche il padre invece era immediatamente andato all'ispettorato di polizia del vaticano a denunciare la scomparsa di sua figlia ma purtroppo la prima reazione delle autorità non è proprio quella in cui speravano iniziano a dirgli ma sì ma stia tranquillo vedrà che magari è uscita con le amiche magari in questo momento si starà mangiando una pizza magari si è dimenticata di avvertirvi e poi aggiungono una frase che mi fa veramente drizzare i capelli un poliziotto guarda il padre di Emanuela e gli dice ma sì ma non si preoccupi non vede non è neanche una bella ragazza quindi di che si preoccupa tutto ciò per dirvi che la denuncia non viene effettivamente raccolta fino al giorno dopo lasciano passare 24 ore prima di agire e come ormai tutti sappiamo nei casi di sparizione le prime 24 ore sono cruciali ma ricordiamoci che questo caso si svolge nel 1983 in quegli anni le cose chiaramente erano diverse e oltretutto quella era una situazione del tutto nuova non capitava tutti i giorni che sparisse una cittadina del Vaticano e la prima mossa da parte delle autorità una volta partita la denuncia è stata quella di avvisare il papa il papa in quel periodo si trovava in Polonia quindi viene da sé che Pietro il fratello di Emanuela pensa subito ma perché per la scomparsa di una ragazzina di 15 anni che fino a poche ore prima mi dicevate ma sì sarà a mangiare la pizza andate a scomodare il papa in Polonia comunque le indagini cominciano le autorità parlano con un agente di polizia e un vigile urbano che si trovavano nei dintorni della scuola di musica di Emanuela e che l'avevano vista il giorno della sua scomparsa parlare con un uomo quest'uomo era molto più grandi di lei sulla quarantina vestito bene con un viso allungato e stempiato le autorità riescono anche a fare un identikit di quest'uomo gli inquirenti contattano anche l'Avon la ditta di cosmetici per chiedere informazioni riguardo questo lavoro di volantinaggio ma l'Avon risponde che non ne sapevano assolutamente niente non dovevano fare nessun volantinaggio a nessuna sfilata oltretutto nella loro azienda assumevano solo donne quindi non era possibile che un uomo sulla quarantina andasse in giro a reclutare ragazze per loro stessa cosa quando hanno chiesto alle sorelle Fontana anche loro non sapevano nulla di tutto questo qualche giorno dopo la denuncia il padre e lo zio di Emanuela tappezzano ogni angolo con dei volantini con sopra la foto di Emanuela ed è lì che il caso inizia a far parlare è lì che il caso diventa ufficialmente pubblico anche perché ripeto era una cosa molto strana che sparisse una ragazza cittadina del Vaticano non era mai successo prima e nei giorni successivi a casa Orlandi arriva una telefonata anzi ne arrivano due da parte di due uomini diversi uno diceva di chiamarsi Pierluigi e l'altro diceva di chiamarsi Mario nessuno dei due aveva voluto dare il cognome ma tutti e due dicevano di aver incontrato per strada una ragazza che cercava di vendere degli oggetti tra cui cosmetici dell'Avon la descrizione di questa ragazza effettivamente combaciava con quella di Emanuela portava gli occhiali era mora sapevano che suonasse il flauto perché aveva con sé la valigetta con il flauto l'unica cosa che non tornava era che tutti e due questi uomini dicevano di aver parlato con questa ragazza e dicevano che il suo nome non era Emanuela ma Barbara la famiglia Orlandi però pensa che a parte il nome c'erano troppe coincidenze troppe similitudini tra questa ragazza e Emanuela doveva essere lei allora chiedono a questi uomini di incontrarsi gli dicono perché non venite al Vaticano e parliamo di persona e mi spiegate meglio questa storia è un dettaglio che stranisce la famiglia Orlandi e che questi due uomini quando sentono il Vaticano cioè che sarebbero dovuti andare al Vaticano si stupiscono molto e rispondono sorpresi ma come in Vaticano perché sei un prete e la famiglia Orlandi quindi ha come l'impressione ma questa ovviamente solo una teoria che qualcuno li avesse incaricati di fare quella telefonata e che loro neanche sapessero di cosa stavano parlando era come se stessero ripetendo quello che qualcun altro gli aveva detto di dire comunque tutti e due questi uomini rifiutano questo incontro e da lì non si fanno più sentire le cose però stavano diventando sempre più strane e si complicano ancora di più quando ad 11 giorni dalla scomparsa di Emanuela il 3 luglio il papa in persona fa un appello desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi la quale è nell'attrizione per la figlia Emanuela di 15 anni che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso quindi il papa in persona che a cui tempi era Giovanni Paolo II aveva appena parlato di responsabilità cioè di responsabili quindi aveva praticamente detto che Emanuela era stata rapita da qualcuno e fino a quel momento nessuno aveva parlato di rapimento chiaramente questo appello fa esplodere questa storia iniziano a parlarne tutti i giornali tutti i telegiornali il fatto che il papa avesse fatto quell'appello e praticamente aveva dato la disponibilità della chiesa nell'aiutare questa famiglia dà il via tutta una serie di pensieri come per esempio il fatto che magari il Vaticano sapesse qualcosa in più e due giorni dopo questo appello il 5 luglio verso le 9 di sera arriva una telefonata alla sala stampa del Vaticano da parte di un uomo che chiedeva di parlare col segretario di stato e diceva di essere uno dei rapitori di Emanuela Orlandi quest'uomo parlava con un forte accento anglosassone di conseguenza i giornali iniziano a soprannominarlo l'americano questo americano diceva appunto di aver rapito Emanuela e quando la famiglia Orlandi chiede a quest'uomo di dargli una prova che Emanuela fosse viva lui fa sentire al telefono la sua voce si sente quindi al telefono la voce di Emanuela che diceva una frase convitto nazionale Vittorio Emanuele secondo dovrei fare il terzo liceo staltranno scientifico e ripete questa frase sei volte Ascolti bene abbiamo pochi momenti dovreste essere della tua si ma me la faccia sentire bene il fratello di Emanuela non mi hanno rimettuto più in contatto con lei non preoccupi è una vera autorizzazione il fratello di Emanuela Pietro non ha dubbi che quella sia la voce di sua sorella e chiede all'americano di fargli una proposta di dirgli che cosa voleva in cambio al che l'americano gli risponde di non preoccuparsi e che i funzionari del Vaticano si sarebbero messi in contatto con lui molto presto il giorno dopo il 6 luglio quindi sono passati 14 giorni dalla scomparsa arriva una telefonata a Lanza sempre dall'americano in cui finalmente fa la sua richiesta dice che loro avrebbero liberato Emanuela ma solo se avessero rilasciato Ali Akja Ali Akja era un te**ista turco scusate devo censurare questa parola perché sennò per carità YouTube impazzisce quest'uomo era già ricercato in Turchia per svariati crimini ma in quel momento si trovava in carcere perché tenetevi forte era stato condannato per il tentato o**idio di niente meno che Papa Giovanni Paolo II il 13 marzo del 1981 mentre il Papa era sull'autoscoperta che faceva il suo ingresso in piazza San Pietro si erano sentiti improvvisamente due colpi d'arma da fuoco Ali Akja aveva colpito il Papa e poi era scappato ma la cosa assurda è che nella fuga una suora gli si era lanciata addosso e grazie a questa suora erano riusciti a fermarlo e arrestarlo quindi questo americano diceva voi liberate Ali Akja e noi liberiamo Emanuela quindi a questo punto era chiaro come il sole che Emanuela Orlandi fosse stata rapita per ricattare il Vaticano oltre a questo scambio l'americano chiede anche di aprire una linea telefonica diretta con il cardinale segretario di Stato Agostino Casaroli che accetta il 17 luglio viene fatto ritrovare un nastro in cui l'americano ribadiva la sua richiesta di scambio tra Emanuela Orlandi e Ali Akja e oltre questo nel nastro si sentiva la voce di una ragazza disperata che implorava aiuto e che urlava e urlava che qualcuno le stava facendo del male sembrava un audio di una ragazza che stava ricevendo delle sevizie insomma a Pietro il fratello di Emanuela quelle urla quella voce sembrava proprio la voce di sua sorella ma invece le autorità dichiarano quasi subito che in realtà avevano scoperto che quell'audio quella registrazione non era la voce di Emanuela ma si trattava invece dello spezzone di un film e scoprono che anche la prima registrazione di Emanuela vi ricordate in cui lei diceva che stava frequentando il secondo liceo e doveva fare il terzo liceo st'altro anno? anche quella era finta o meglio quella era la voce di Emanuela ma quell'anno la sua classe appunto del suo liceo era stata ospite di un programma tv e la voce di Emanuela che diceva quelle cose che diceva io frequento questa scuola e faccio questa classe era semplicemente la registrazione di lei che parlava in questa trasmissione tv di conseguenza si rendono conto che di fatto non avevano ancora ricevuto nessuna prova che Emanuela fosse in vita e che stesse bene fino a quel momento si pensava che Emanuela fosse tenuta in ostaggio dall'organizzazione criminale di cui faceva parte Ali Akja che è un'organizzazione che si chiama Lupi Grigi ma a questo punto non erano più così sicuri il 3 agosto le cose si complicano ancora di più seguitemi perché è un casino la famiglia Orlandi o le autorità adesso non mi è chiaro comunque ricevono un comunicato da parte di un'altra organizzazione criminale che si facevano chiamare i Turkesh che era un movimento anticristiano che però dicevano di non centrare niente con l'americano con Ali Akja e lui a sua volta l'americano diceva di non centrare niente con questi Turkesh in questo comunicato questi Turkesh dicevano di essere loro i responsabili del rapimento di Emanuela e non solo della sua scomparsa ma anche di quella di un'altra ragazza di nome Mirella Gregori che era scomparsa circa un mese e mezzo prima a Roma quindi questi Turkesh stavano dicendo che la scomparsa di queste due ragazze erano collegate Mirella Gregori era scomparsa il 7 maggio quindi pochissimo tempo prima di Emanuela e quel giorno le aveva citofonato a casa un ragazzo che diceva di essere suo amico e di chiamarsi Sandro e lei aveva detto Mirella sono Sandro scendi ma Mirella probabilmente non conosceva questo Sandro perché aveva risposto al citofono se non mi dici chi sei non scendo questo secondo sua madre che era in casa con lei ma alla fine quanto pare dopo aver preso un po' di tempo aveva accettato l'invito aveva detto a sua madre che sarebbe uscita con un suo vecchio compagno di scuola ma purtroppo da quell'appuntamento Mirella non fa mai più ritorno e a quel punto vedendo che appunto Mirella non tornava a casa la sua sorella maggiore era andata al bar sotto casa e aveva chiesto alla ragazza che ci lavorava che era un'amica di famiglia se avesse visto Mirella passare di lì e questa donna risponde sì certo l'ho vista prima è entrata e mi ha detto che stava andando a Villa Torlonia a suonare la chitarra e la sorella di Mirella la guarda e le dice ma cosa stai dicendo? Mirella non suona la chitarra quindi a quel punto la sorella di Mirella era andata a cercarla insieme alle autorità a cui aveva denunciato la scomparsa ma anche quelle ricerche non avevano portato a nulla di Mirella non c'era traccia a quel punto tutti erano convinti che la sparizione di Emanuela e quella di Mirella fossero collegate e questa idea viene rafforzata da un ulteriore appello fatto dal Papa in cui esprimeva la sua vicinanza non solo alla famiglia di Emanuela ma anche a quella di Mirella l'8 settembre sempre del 1983 arriva una lettera questa volta alla famiglia di Mirella e questa lettera era sempre da parte dell'americano l'americano chiedeva alla famiglia di Mirella di andare da Sandro Pertini che a cui tempi era Presidente della Repubblica per chiedergli di nuovo la scarcerazione di Ali Akja e dicendogli che in quel modo avrebbero liberato Mirella Comunque avvicinare il Presidente non era una cosa facile però riuscimmo in qualche maniera a metterci in contatto con il Quirinale e molto carinamente il Presidente ci ricevette a me e a mia madre Pertini successivamente rilascia un'intervista a Lanza in cui parla delle due ragazze della sparizione di Emanuela della sparizione di Mirella ma a quanto pare non lo fa secondo le richieste dei rapitori che volevano proprio che lui desse la grazia a Ali Akja e chiaramente lui non lo fa al che la famiglia di Mirella riceve una telefonata da parte sempre dell'americano che molto contrariato gli dice che per Mirella non c'era più niente da fare Mirella era morta e gli avrebbero restituito il corpo in futuro perché praticamente questi dicevano noi vi abbiamo fatto una richiesta di scambio voi ci avete provato avete fallito perché il Presidente non ha dato la grazia a Ali Akja quindi noi abbiamo fatto fuori vostra figlia adesso però passiamo a Emanuela vediamo se ci prendete sul serio adesso che abbiamo fatto fuori una persona il punto era che questi non avevano mai fornito una prova del fatto che queste due ragazze fossero vive quindi ovvio che non avrebbero mai rilasciato un terrestre in cambio di cosa? in cambio di niente inoltre sia la famiglia di Emanuela sia la famiglia di Mirella iniziano a pensare che in realtà quelle due sparizioni non fossero neanche collegate iniziano a pensare che forse qualcuno aveva voluto usare la sparizione di Mirella che casualmente aveva la stessa età di Emanuela e che casualmente era sparita anche lei nello stesso periodo anche lei a Roma per approfittare della situazione infatti a supporto di questa tesi praticamente tantissime altre organizzazioni criminali dalle organizzazioni statistiche islamiche più pericolose all'organizzazione Cina più sconosciuta iniziano tutti a farsi avanti e tutti rivendicavano il rapimento di Emanuela Orlandi e tutti avanzavano richieste ormai si era sparsa la voce ovviamente che fosse scomparsa una cittadina del Vaticano quindi tutte queste organizzazioni dicevano oh chiamiamo anche noi magari riusciamo a ottenere qualcosa tanto sono genitori disperati crederanno a tutto capiscono a quel punto che l'unica cosa che rimaneva da fare era fare un passo indietro per far calmare le acque passano però ben 14 anni dalla scomparsa di Emanuela quando il 19 dicembre del 1997 la prima indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi viene archiviata sono ormai tutti convinti che quella pista del terrorismo internazionale il fatto che avessero rapito Emanuela per poter ricattare il Vaticano o peggio per attentare alla vita del Papa era tutto un depistaggio qualcuno aveva appunto approfittato della sparizione di una ragazza cittadina del Vaticano l'americano era stato il primo e dopo di lui tanti altri ma era tutta fuffa perché come già detto non c'era mai stata la prova che Emanuela fosse viva e che fosse effettivamente nelle mani di una di queste persone ma nel 2005 dopo 22 anni dalla scomparsa succede una cosa incredibile perché durante una puntata di Chi l'ha visto arriva una telefonata anonima in diretta Gli inquirenti decidono di raccogliere questa segnalazione e di andare a vedere chi ci fosse sepolto in questa basilica e scoprono che sepolto lì c'era un certo Enrico De Pedis detto Renatino che altri non era che un boss della banda della Magliana il boss la banda della Magliana lo saprete la famosissima organizzazione del crimine organizzato di Roma e scoprono che la sepoltura di questo boss nella basilica era effettivamente stata voluta e autorizzata dal cardinale Ugo Poletti proprio la persona di cui parlava quell'uomo nella telefonata a chi l'ha visto questo cardinale Ugo Poletti ai tempi era il presidente della conferenza episcopale ma la domanda qua è perché? Cioè cosa ci fa un boss mafioso seppellito in una basilica? Questa cosa sembrava non avere nessun senso ma invece purtroppo ce l'ha a parte che pare essere una specie di feticcio dei boss mafiosi farsi seppellire in questi posti speciali farsi seppellire in una basilica è un'ambizione che molti boss mafiosi e il loro ego spropositato hanno questo perché la sepoltura ecclesiastica è una cosa che richiede una procedura autorizzativa molto complessa pensate che quella sepoltura si chiama appunto sepoltura particolare e per ottenerla tra le cose devi presentare un curriculum in cui si elencano tutte le cose per cui tu meriti quel tipo di sepoltura sarei proprio curiosa di sapere quali fatti riguardanti un boss mafioso potrebbero mai meritare la sepoltura in una basilica eppure questo renatino aveva trovato il modo di ottenerla questa autorizzazione da parte del cardinal Poletti ma cosa aveva dovuto fare in cambio per riuscirci probabilmente quel favore di cui aveva parlato quella telefonata a chi l'ha visto ma in tutto ciò che cosa c'entrava Emanuela Orlandi che poi tra l'altro questa basilica di Santa Pollinare si trovava proprio a due passi dalla scuola di musica di Emanuela cioè dal luogo da cui era scomparsa o comunque dal luogo in cui era stata vista per l'ultima volta prima di scomparire gli inquirenti quindi iniziano a percorrere una nuova pista una nuova indagine per quanto riguarda la sparizione di Emanuela la prima era stata fatta sul terreno internazionale e il Vaticano questa volta era sulla banda della Magliana e il Vaticano il Vaticano però sembrava essere sempre coinvolto alla fine e c'erano molti elementi che suggerivano che questa fosse la pista giusta per esempio il fatto che una delle primissime attività della banda della Magliana fosse proprio il sequestro di persona o che il clan di questo Renatino fosse particolarmente vicino allo Ior che sarebbe la banca in cui tutti i religiosi custodiscono i propri soldi quindi si parla di un sacco di soldi il capo di questa banca vaticana lo Ior era il Monsignor Paul Marcinkus che diciamo che non sembrava essere una personcina molto per bene o meglio per citare la legale della famiglia Orlandi per alcuni era un uomo tanto buono e candido mentre per altri era il diavolo questo Marcinkus a quanto pare aveva fatto accordi con moltissime organizzazioni criminali e avevano iniziato a sparire un sacco di soldi da questa banca e scoprono che una delle organizzazioni con cui Marcinkus era diciamo in affari era addirittura l'Andrangheta praticamente l'Andrangheta aveva affidato allo Ior la banca vaticana 130 miliardi di lire affinché venissero riciclati attraverso il banco ambrosiano che invece ha subito un crack finanziario nel 77 di conseguenza questi 130 miliardi di lire erano andati persi non c'erano più c'era però sempre da capire che cosa potesse centrare Emanuela una ragazzina di 15 anni con tutto questo ve lo spiego subito amici dunque se siete stati attenti finora avete capito che questa povera ragazza è stata rapita da qualcuno non si sa chi quando la notizia che fosse una cittadina del Vaticano è diventata pubblica diversi criminali diverse organizzazioni criminali avevano deciso di approfittarne rivendicando il rapimento e provando a ricattare il Vaticano chiedendo cose che in un altro modo non avrebbero mai potuto ottenere quindi l'andrangheta aveva perso 130 miliardi di lire per colpa del Vaticano per colpa di Marcinkus quindi secondo voi che cosa decide di fare? appena l'andrangheta viene a conoscenza del fatto che una cittadina del Vaticano è scomparsa decide anche lei come tutte le altre organizzazioni di provarci ma per farlo non rivendica il rapimento come hanno fatto tutte le altre organizzazioni che hanno fatto finta sì ce l'ho io Emanuela credeteci no qua stiamo parlando dell'andrangheta decidono quindi di rivolgersi a Renatino Enrico De Pedis che ai tempi era il boss mafioso più potente di Roma Renatino cosa fa? rintraccia i veri rapitori di Emanuela che però non si sa chi siano si fa portare dove l'avevano nascosta li ammazza prende Emanuela e inizia il suo ricatto al Vaticano il 22 giugno 2005 quindi al 25esimo anniversario della scomparsa di Emanuela la famiglia aveva deciso di riappendere tutti i manifesti con la sua foto per ricordarla e quello stesso giorno una giornalista contatta Pietro il fratello di Emanuela e gli chiede ma per caso hai sentito le dichiarazioni che ha fatto Sabrina Minardi Sabrina Minardi era una donna che per molti anni era stata l'amante di Enrico De Pedis Renatino e dopo così tanti anni aveva deciso di parlare e aveva un sacco di cose da dire nel suo racconto Emanuela era stata consegnata a Renatino che l'aveva portata a casa sua e in quei giorni Marcinkus era andato più volte a trovarlo e Sabrina Minardi sostiene che Marcinkus abbia avuto più volte rapporti con Emanuela rapporti intimi perché a quanto pare questo monsignor Marcinkus aveva un debole per le ragazzine molto giovani quindi c'era stato questo scambio e sembrava dal racconto di Sabrina Minardi sembrava che fosse stato lo stesso Marcinkus ad aver ordinato il rapimento di Emanuela fin dal principio e che per effettuarlo fisicamente si fosse rivolto alla banda della Magliana infatti Sabrina Minardi diceva che a prelevare fisicamente Emanuela era stato l'autista di Renatino un uomo che si chiamava Sergio e vi ricordate all'inizio della prima indagine quando la polizia aveva parlato con un vigile urbano che aveva visto Emanuela parlare con un uomo aveva descritto quest'uomo e la polizia aveva fatto un identikit se guardiamo l'identikit di quest'uomo e la faccia dell'autista di Renatino effettivamente si assomigliano in modo inquietante quest'uomo Sergio l'autista di Renatino era stato poi successivamente arrestato perché già ricercato per altri crimini ma ha sempre negato il suo coinvolgimento nella sparizione di Emanuela e ha negato anche il fatto di conoscere Renatino diceva di non averlo mai incontrato di non averci mai parlato la Minardi continua il suo racconto dicendo che uno di quei giorni era andata con Renatino in un posto remoto e lui aveva con sé dei grossi sacchi che aveva buttato in una betoniera Renatino le aveva detto che in questi sacchi c'era il corpo di Emanuela questo racconto della Minardi per molti aspetti sembrava purtroppo avere senso molte cose sembravano veritiere peccato che col passare del tempo il suo racconto diventa un po' confuso perché dovete sapere che la Minardi aveva fatto uso di sostanze per moltissimo tempo di conseguenza quando doveva ricordarsi date luoghi nomi andava un po' in confusione per questo motivo aveva iniziato a perdere di credibilità sempre di più finché era stato deciso che non fosse una fonte attendibile punto e basta qualcuno sostiene che l'avesse fatto apposta ad andare all'improvviso così in confusione perché forse si era stufata di questo ruolo che aveva assunto di testimone di giustizia e non aveva più voglia di parlare quindi magari si era resa inattendibile apposta altri invece sostengono che qualcuno o qualcosa l'avesse impaurita nel luglio del 2010 però viene data l'autorizzazione all'ispezione della tomba di De Pedis Renatino la sua tomba nella basilica di Santa Pollinare nel 2012 questa tomba viene effettivamente aperta ma al suo interno c'era soltanto la salma del defunto che è stata successivamente cremata e tolta da lì e basta non c'erano tracce di Emanuela non c'era traccia del DNA di Emanuela nel maggio del 2012 l'allora procuratore del caso Orlandi Giancarlo Capaldo decide quindi di andare personalmente al Vaticano perché chiaramente c'era bisogno di ulteriori approfondimenti perché ovunque ti giravi sembrava che il Vaticano comunque centrasse qualcosa era l'elemento sempre presente in tutte le indagini che avevano fatto e dal Vaticano gli dicono che erano disposti a dargli alcuni nomi di persone che avevano avuto un ruolo nella scomparsa di Emanuela ma dicono chiaramente noi vi diciamo dei nomi ma non si può andare oltre nel senso sopra questi nomi non si va e questa era una sorta di trattativa anche se come dice il procuratore stesso non può esserci una trattativa tra un procuratore italiano e lo stato del Vaticano quindi ufficialmente non era una trattativa però lo era è vero che lei è andata in Vaticano per effettuare una trattativa questa domanda diciamo non non rispondo perché non possono esserci trattative tra un procuratore italiano e lo stato vaticano non è non è avvenuto non è avvenuto questo ma questo dimostrava che quindi qualcuno al Vaticano sapeva ma prima che tutto questo potesse succedere il nuovo capo della procura di Roma interviene e toglie l'inchiesta a Capaldo quindi questa trattativa non trattativa non avviene mai il 6 maggio del 2012 a ben 32 anni dalla scomparsa di Manuela viene archiviato il caso per la seconda volta ma in realtà gli inquirenti hanno un'altra pista che vogliono seguire e protagonista di questa terza pista è guarda un po' sempre il Vaticano scoprono che poco prima della sua scomparsa Emanuela aveva confidato ad una sua vecchia compagnia di classe che un giorno mentre si trovava ai giardini vaticani era stata avvicinata da un uomo una figura molto vicina al papa e racconta che questa persona ci aveva provato con lei il cardinale Silvio Oddi si fa avanti dopo molti anni dicendo che Emanuela il giorno della sua scomparsa era in realtà rientrata nella città del Vaticano quindi non era scomparsa dalla sua scuola di musica come tutti pensavano questo cardinale racconta che una volta rientrata nello stato pontificio era poi uscita di nuovo in macchina insieme ad un monsignore e secondo lui Emanuela era stata coinvolta in una serie di festini e a sostegno di questa tesi ci sono una serie di dichiarazioni shock di padre Amort che è conosciuto per essere il più famoso esorcista della diocesi di Roma secondo lui Emanuela era stata vittima di un festino a sfondo satanico tenutosi al Vaticano padre Amort sosteneva che il modo in cui Emanuela era stata approcciata ovvero con quell'offerta lavorativa di volantinaggio era il tipico modo con cui si adescavano ragazzine e ragazzini per poi portarli in certi ambienti ambienti perversi in cui facevano rituali massonici a sfondo satanico e diverse altre figure all'interno del Vaticano confermano l'esistenza di questi festini ma il punto è che Emanuela non si sarebbe mai recata in questi posti volontariamente quindi avrebbe senso la cosa dell'adescamento se vi ricordate quel giorno Emanuela dice a sua sorella che stava aspettando quell'uomo quindi immagino che se quest'uomo si fosse presentato Emanuela sarebbe andata con lui chiaramente Emanuela si fidava di lui comunque il fratello di Emanuela alla luce di questi fatti ripensa al nastro che l'americano aveva fatto trovare nel luglio del 1983 poco dopo la scomparsa di sua sorella vi ricordate il nastro in cui si sentiva la voce di Emanuela urlare di dolore ma che poi era venuto fuori che non fosse Emanuela ma la registrazione di un film ecco quel nastro torna alla mente di Pietro e decide di volerlo riascoltare perché a lui fin dal principio quella era sembrata la voce di sua sorella la teoria che fosse un'ospensione di un film non l'aveva mai convinto a pieno io amici vorrei inserirvi l'audio in questione ma sono certa al 100% che youtube mi bloccherebbe il video come ha già fatto in alcuni miei video vecchi ma vorrei che lo sentiste quindi vi lascio come già detto il link del documentario in cui c'è anche questa registrazione però vi avverto fa venire i brividi quindi se decidete di andarlo ad ascoltare sappiatelo perlomeno a me ha fatto davvero impressione perché a me non sembra affatto lo spezzone di un film ma il punto è un altro nel nastro che avevano ascoltato nel 1983 e che le autorità avevano anche trascritto si sentiva appunto la voce di una ragazza che poteva essere Emanuela e anche tre voci maschili che le dicevano cose tipo stai zitta stai ferma come già detto sembrava le stessero facendo del male sembrava la stessero invece nel nastro che Pietro decide di riascoltare dopo tutti quegli anni le voci maschili non c'erano più erano sparite e il nastro era cambiato qualcuno l'aveva modificato qualcuno aveva effettuato dei tagli aveva tolto tutte le voci maschili peccato che però nella trascrizione di questo nastro le voci maschili erano presenti erano state trascritte quindi nessuno se l'era sognato e adesso il nastro sembrava più la registrazione di un atto sessuale e questo si incastrava perfettamente con la terza pista che stavano percorrendo ovvero la pista sessuale ma la santa sede in tutto ciò non collabora assolutamente quindi non si sono potute svolgere delle indagini più approfondite anzi il Vaticano addirittura nega di avere anche solo un fascicolo del caso Emanuela Orlandi cosa comunque assurda come è possibile che nessuno nello stato del Vaticano abbia mai effettuato anche solo un'indagine su tutta questa storia il fratello di Emanuela Pietro giura che questo fascicolo esiste come e infatti lui l'aveva anche visto con i suoi occhi sulla scrivania di Monsignor Georg nel 2012 in quegli anni Monsignor Georg era il segretario del Papa e Pietro si ricorda addirittura il nome che aveva questo fascicolo che era il rapporto Emanuela Orlandi ma come è normale che sia è ovvio che esista un fascicolo di questa storia al Vaticano sarebbe strano il contrario infatti è assurdo che questa cosa si neghi quindi la domanda è perché negarlo forse perché all'interno di questo fascicolo c'erano delle verità inconfessabili ma il 18 settembre del 2017 c'è una svolta viene scassinata una cassaforte nel Vaticano all'interno c'erano diversi documenti riservati tra cui cinque fogli che parlavano di Emanuela nello specifico cito di alcune spese che il Vaticano avrebbe sostenuto per l'allontanamento domiciliare della cittadina Emanuela Orlandi questo documento era datato 1997 era firmato dal cardinale Antonietti e indirizzato al cardinale Re e al cardinale Turan e su questo documento c'erano tutta una serie di spese era come se il Vaticano avesse mandato via Emanuela e per tutti quegli anni l'avesse mantenuta c'erano spese di scuole conventi femminili spese di spostamenti una spesa in una ginecologa di Londra di ben 3 milioni di lire c'erano anche viaggi a Londra da alti esponenti del Vaticano come per esempio il capo della gendarmeria di città del Vaticano Camillo Cibin oppure il medico di Papa Waitila ma questo documento viene immediatamente dichiarato falso e questo perché all'interno c'erano degli errori abbastanza gravi per esempio i vescovi si chiamano eccellenza reverendissima mentre invece su questo documento riferendosi al segretario di stato c'era scritto con sua riverita eccellenza e ovviamente a me non dice nulla mi sembra una stessa identica cosa ma invece non lo è anzi è un errore molto molto grave è un errore stupido che nessuno farebbe e oltretutto in questo documento si riferivano a Emanuela Orlandi come una cittadina del Vaticano mentre anche questo è un errore che ho fatto anch'io durante tutto questo video ma non ci sono cittadini del Vaticano gli abitanti del Vaticano si chiamano sudditi perché non è un paese democratico e anche questo comunque su un documento è un erroraccio è impossibile che un documento del genere fosse vero con questo tipo di errori ma c'era quel punto da chiedersi se la persona che aveva creato quel documento avesse fatto apposta quegli errori proprio magari per far sembrare falso un documento che in realtà non lo era o forse hanno anche pensato potesse essere un messaggio per qualcuno che o non doveva parlare o doveva continuare a depistare che poi quel documento per intero era di più di 160 pagine nella cassaforte erano stati ritrovati solo 5 fogli di 160 era come se qualcuno avesse messo quei 5 fogli lì quasi per dire a qualcuno guarda che io ho il rimanente di questo documento quindi anche lì torna l'ipotesi di un ricatto comunque la prima spesa segnata in questo documento risaliva al 1983 quando Emanuela era stata rapita con appunto le sue spese di trasferimento invece l'ultima spesa di questo documento risaliva al 1997 ed era una spesa per attività generale e trasferimento presso stato città del Vaticano con relativo disbrigo pratiche finali e la spesa di queste pratiche finali era di 21 milioni di lire che sono un sacco di soldi veniva quindi da pensare al rimpatrio di una salma e alle spese di sepoltura ma quindi questo voleva dire che forse il corpo di Emanuela era effettivamente sepolto da qualche parte al Vaticano ma dove? e quasi come una risposta a questa domanda nel 2018 l'avvocato della famiglia Orlandi riceve una lettera anonima in questa lettera c'era la foto di una statua di un angelo che guardava verso il basso e un fogliettino con su scritto se vuoi sapere dov'è il corpo di Emanuela devi cercare là dove guarda l'angelo vanno quindi al cimitero teutonico che è un piccolo cimitero dentro le mura del Vaticano e fanno istanza al segretario di stato per poter aprire due tombe le due tombe verso cui guardava proprio l'angelo della foto che aveva ricevuto l'avvocato della famiglia Orlandi il segretario di stato incredibilmente accetta e come dice il fratello di Emanuela quella era stata la prima volta che effettivamente il Vaticano aveva collaborato in tutta questa storia l'11 luglio quindi fanno aprire queste tombe che appartenevano a due principesse di cui non so pronunciare il nome come al solito ma ve lo scrivo ma una volta tolta la lastra di marmo invece di trovare una bara come tutti si aspettavano trovano della terra scavano sotto questa terra fino a trovare una lastra di qualcosa di duro fanno un buco in questa in questa lastra ma sotto era vuoto infilano quindi una sticella per capire quanto spazio vuoto ci fosse e scendono con questa sticella fino a tre metri di profondità fanno quindi un buco più grande grande abbastanza per riuscire a scendere fisicamente la sotto ma non è stato trovato niente amici queste due tombe erano vuote non c'erano corpi non c'erano ossa né di Emanuela né delle due principesse che avrebbero dovuto essere sepolte lì ma decidono di continuare a scavare e praticamente queste due tombe erano adiacenti ad un edificio trovano così due botole in cui vengono rinvenute tantissime ossa vengono rinvenuti 26 sacchi di ossa che significava tantissimi corpi c'erano ossa di adulti ossa di bambini e in tutto si stimava ci fossero all'incirca dieci corpi ma di chi erano queste ossa amici ci credete che quelle ossa non sono mai state analizzate mai a quanto pare il Vaticano si era rifiutato di analizzarle dicendo però alla famiglia di Emanuela che se avessero voluto avrebbero potuto farle analizzare loro per via privata ma Pietro risponde che questa cosa era assurda perché un'analisi del genere gli sarebbe costata migliaia e migliaia di euro soldi che lui non aveva e in un'intervista di aprile 2020 Pietro Orlandi dice stiamo parlando di 26 sacchi di ossa mai analizzate perché in un giorno e mezzo 26 sacchi non si analizzano non dico intendiamoci che tra quelle ossa ci siano anche quelle di Emanuela ma perché lasciare dubbi di qualsiasi tipo all'opinione pubblica non viene a loro il dubbio di cercare di capire che ossa fossero dovrebbero spiegare il perché dei crani di bambini in un ossario il Vaticano continua nella sua opacità pare che le ossa siano state analizzate solo a vista da un consulente della Santa Sede come si fa ad analizzare delle ossa a vista io personalmente non lo so fatto sta che ad oggi non si sa a chi appartengano quelle ossa perché quella lettera diceva di cercare proprio in quel luogo il corpo di Emanuela Orlandi era forse un'altra persona che ha voluto approfittare del caso Orlandi per far venire a galla questo fatto per far venire a galla qualcos'altro oppure tra quelle ossa potrebbero veramente esserci anche quelle di Emanuela è assurdo che ad oggi ancora questa cosa non si sappia Pietro è convinto così come tutta la sua famiglia che Emanuela sia ancora viva tenuta forse nascosta da qualche parte e non si fermeranno finché non l'avranno trovata il caso di Emanuela Orlandi rimane aperto ma purtroppo ancora oggi non ha una risposta non ha un colpevole non ha una conclusione ma Pietro continua a lottare per conoscere la verità e sicuramente non si fermerà mai questi amici purtroppo sono tutte le informazioni che ho su questo caso come vi ho detto è credo il caso che mi ha turbato di più il sonno penso di averlo anche sognato per un paio di notti è davvero un caso che mi fa arrabbiare per tanti motivi e vi ringrazio di avermi ascoltata vi ringrazio come al solito di aver passato il vostro tempo con me anche oggi sono felice di essere tornata vi salutiamo io e Salami che è stata qua tutto il tempo a rompermi le scatole mi hai rotto un po' le scatole per favore hai cercato di mangiare il computer per tutta la durata del video ciao amici ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao